Buonasera, la politica in agosto a Siena non è stata ferma, non ci hanno lasciato pace, ecco se vogliamo anche dirla così, perché c'è stato un ribollire, fermenti che già adesso, ai primi di settembre, si mettono in moto. La parola chiave ha poche lettere, idee, idee, e adesso tutti sono alla ricerca delle idee, come dire, il fronteggiarsi politicamente, gli scontri politici, perché siamo su versanti diversi, sembra in questo momento che ci sia voglia di accantonarli, e meno male, si direbbe, perché sembra sempre in questa città di essere in campagna elettorale, e tutti si stanno spostando sul fronte appunto delle idee, dei progetti, del confrontarsi per avere un'idea nuova di una città che ha bisogno di essere davvero nuova, di ripartire per davvero. Questi sono movimenti politici, noi abbiamo cercato di affiancarli, di essere in qualche modo dentro a questi processi, per raccontarveli, per fare il nostro ruolo di informatori su ciò che accade. Abbiamo realizzato una serie di interviste e in questo fine settimana cerchiamo di darvi il quadro completo, come è nella nostra tradizione, facendo parlare un po' tutti su quello che è accaduto, su come riprende, diciamo, la attività politica, che non si è mai fermata, l'abbiamo detto, ad agosto, comunque con la ripresa cosiddetta autunnale. Facciamo però una premessa, prima di mettere in campo gli esponenti delle forze politiche senesi, incominciamo dal presidente Enrico Rossi, perché proprio dalla provincia di Siena, dalla festa del PD di Stagia Senese, il presidente della regione ha lanciato una sorta di sua possibilità di ingresso in campo nel futuro congresso, che ci sarà addirittura nel 2017 del PD, per correre e perché no, ha detto anche, per la segreteria. Sentiamo che cosa ci ha detto, pochi giorni fa, alla festa del PD di Stagia Senese, in cui ha lanciato, si è lanciato in qualche modo nel lagone, nella competizione interna del PD in vista del futuro congresso. Io credo che ho il dovere e anche il diritto, ma prima di tutto il dovere di dire la mia, stando in questo partito, tutti sanno che io non sono renziano, penso che in questo partito si può stare, anche con opinioni e idee diverse, bisogna farlo con l'idea di tenere unito questo partito, di dare un contributo e poi, come piace dire a me, dopo aver discusso e dopo aver dato un contributo c'è una maggioranza, la maggioranza decide e si vota così come stabilisce la maggioranza, mandando avanti il governo, le riforme che il governo deve fare. Questo significa anche preparare a un dibattito politico, culturale, sui fondamenti di questo partito, sui suoi valori, sulle sue idealità, che a mio parere è fondamentale fare anche in previsione del prossimo congresso. Sempre più abbiamo grandi questioni che si paventano davanti a noi, il problema del riscaldamento globale, i problemi della guerra e della pace, dello sviluppo del mondo, delle immigrazioni, l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, le grandi questioni dello sviluppo che abbiamo anche nel nostro Paese, dei rapporti di lavoro, della disoccupazione, degli investimenti. Mi pare che questi devono uscire un po' da una diatriba che a volte sembra contrapporre ceto politico al proprio interno, magari qualche volta parte anche da qualche rancore, da qualche desiderio di non riconoscere i risultati dell'ultimo congresso e tutto questo va superato guardando in avanti, confidando nell'unità di questo partito e nella sua forza. Questo non è un partito nato per soddisfare la volontà di potenza di questo gruppo dirigente, di quella persona, è un partito che raccoglie la migliore cultura delle forze popolari, della sinistra storica di questo Paese, si è unito per guardare al futuro e per cambiare questo Paese e l'Europa. Quindi il dibattito va fatto ma deve avere anche la giusta profondità. Bene, insomma, da Stagia Senese parte un'iniziativa ovviamente di carattere nazionale verso il proprio partito del Presidente della Regione. Molti sono stati i commenti, altri ce ne saranno. Insomma, di qui al 2017 tanta acqua deve correre sotto i ponti. Veniamo a casa nostra con i due movimentisti di agosto. Due in particolare sono stati gli esponenti politici che hanno caratterizzato l'attività politica in agosto anche in modo molto forte e quindi andiamo a sentire su un fronte Eugenio Neri, sull'altro Stefano Scaramelli. Secondo me credo ci siano state riflessioni da tutte e due le parti, ma comunque io parlo della mia riflessione. La mia riflessione riguarda il fatto che la priorità non è solo liberare Siena, ma la priorità è far sì che la rassegnazione che pervade la città ora di fronte all'inattività, ai disastri, a tutte le cose brutte che vediamo di questa amministrazione che poi è figlia del PD che ci ha portato qui, la gente comincia forse a avere nostalgia del groviglio, sperare che Babbo Natale continua a esserci. Allora la nostra priorità non è conquistare il comune di Siena, come un atto, come una bandiera, che probabilmente fa bene a chi ha una visione nazionale, dire abbiamo strappato Siena ai rossi. Io parto da un'altra considerazione, qui la città va ricostruita con un modello tutto da sperimentare, ma sicuramente un modello autoctono che rispecchi le vocazioni dei senesi, la sua storia e la città. Quindi c'è una gran differenza, vincere le elezioni e costruire il futuro. Per costruire il futuro bisogna essere civici, perché l'effetto che hanno avuto i partiti sulla città è stato deteriore. Io non credo che nessuno possa dire che non c'è stata una complicità intrinseca della maggior parte dei partiti, non tutti. Ma se ora, dopo le piaghe d'Egitto, c'è anche la peste di una influenza ulteriormente negativa dei partiti che ambiscono a strappare la città, qui si finisce, game over. Allora bisogna ritrovare un terreno di discussione. In Consiglio Comunale, al di là di tutte le etichette, ci sono delle persone, cioè noi sette, più le persone che sono, parlo di Tucci, parlo di Ernesto Campanini, e probabilmente anche nella maggioranza, probabilmente anche nella maggioranza, che sono mature per aprire un discorso di programmi, un discorso di cose da fare molto semplici, molto lineari, inelettabilmente applicabili, e che secondo me sono l'unica strada per uscire da questo impasse. Tra l'altro, parlavi di Ernesto Campanini, insomma, la sinistra per cena, il gruppo che era prima rappresentato Laura Vigni, adesso Ernesto Campanini e Consiglio Comunale, i 5 Stelle e anche Enrico Tucci con Pietra Sedena, un laboratorio di idee l'hanno aperto. Penso sia interessante. Va fatto un nuovo patto per la città, io devo essere sincero, quel rancore magari potrebbe essere giustificato, io non l'ho mai provato, anche perché certe persone i voti per vincere non ce l'hanno mai promessi, avevano messo dei paletti, alcuni si hanno cambiato, però non è qui, il punto è che noi parliamo un'altra lingua rispetto alle segreterie, noi parliamo un'altra lingua, abbiamo davanti come priorità i problemi della città, lo dimostrano tutte le nostre interrogazioni, i nostri punti di resistenza, anche azioni dimostrative che abbiamo fatto in Consiglio Comunale e che purtroppo sono meno eclatanti di altre cose, in campagna elettorale ogni rumore diventa una sinfonia, nell'attività quotidiana non è così, ma c'è molte meno differenze, è chiaro che poi è un fronte che deve sottoscrivere un patto a quel punto, perché se no poi alla prima cambiamento ognuno va a seguire i suoi narcisismi, segue le sue indicazioni, sente le sue basi, ci vuole un patto e questo, perché ho fatto questa proposta? Perché la priorità che sento come dovere, gli si è messo in un'impresa politica pur facendo un altro mestiere e a un certo punto sente la necessità di accompagnare un processo, secondo quelle sono delle idee che mi provengono da una conoscenza della città e soprattutto da cittadino quello che non vorrei che succedesse. Ecco, riassumiamo, a chi lo proponi il patto? Il patto riguarda i consiglieri comunali che siedono all'opposizione e agli scontenti. Agli scontenti anche del PD, ci sono persone secondo me di grande qualità. E a Lega Italia, Lega e Fratelli Italia che messaggio mandi? Io ho sentito delle critiche sul fatto che noi come civici non si dovrebbe parlare, perché sono partiti titolari della politica, è una polemica marginale su questo, le stesse persone mi facevano chiamare dai senatori nazionali per entrare nella lista civica che riguardava quella parte politica e io su certe persone avevo detto no, se no vi trovate un altro candidato. Ci sono delle persone che secondo me hanno dei passati che sono poco accettabili, però questo non sono io che dice di sì o di no, bisogna trovarci a un tavolo e cercare di buttare giù soprattutto 5 punti, io direi 5 punti con i relativi corollari che fanno parte della ricostruzione di Siena e non prescindono da alcune posizioni, la ricostruzione della verità, indubbiamente, perché non si ricuce una città senza un'operazione di verità. Quello che si è notato in questa fase, con tutto quello che è successo in questi anni all'interno del partito sienese, dentro la città di Siena, ma in particolar modo anche nel contesto provinciale, la difficoltà che il partito ha avuto a fare delle sintesi quando siamo dovuti presentare di fronte alla competizione regionale e poi anche tutti gli eventi che si sono susseguiti, il fatto di una fase di mancanza di coordinamento per esempio delle attività dei sindaci nel territorio, la mancanza di un'azione condivisa strategica al cospetto della banca, della fondazione, della possibilità di tornare ad essere un grande soggetto politico nel territorio provinciale, la difficoltà anche a vedere convocati gli organismi, un organismo di direzione provinciale che non hai la guida in questo momento del partito e la paura in questi casi quando dopo un anno non ti riunisci, che poi certe decisioni vengono presi nei soliti camminetti, allora l'azione era cambiare il partito, la volontà di cercare di tornare ad essere un partito democratico che si struttura su territori, che lavora, che si organizza, che non può misurarsi esclusivamente per i numeri, se prende totte voti, non voti, il numero di tessere, serve un'attività politica, serve la possibilità di fare politica nei territori, cercando di riorganizzare una visione strategica, consapevole di quello che è successo per le regionali, consapevole del fatto che comunque su Siena un'area politica, quella rappresentata da me, da Angela Pagni, ha raccolto circa 20.000 preferenze, che è andato straordinario, che è quella dei renziani, che sono rimasti coerenti con le loro idee fin dall'inizio, che non hanno avuto bisogno di coloro che sono saliti sul carro, perché chi era salito sul carro dopo non è salito a spingerlo da noi, ma è salito per montarci e per occupare delle posizioni, abbiamo fatto chiarezza e anche loro hanno avuto la possibilità di correre all'interno delle competizioni regionali, c'è però una forza politica che oggi ha circa 20.000 preferenze, che ha trovato consenso nei territori, che ha fatto in modo che quindi che il PD prendesse un grande risultato, che non è nel governo per esempio della federazione provinciale del partito, perché non ricordiamoci che da quando Iuribetto Ellini, che era responsabile degli enti locali, Jessica Nisi o David Baggio si dimisero a settembre, fu detto che si sarebbe poi riorganizzato un nuovo esecutivo, ma quell'esecutivo nuovo non c'è mai stato, io credo che un partito complesso non è quello di Siena, senza un esecutivo provinciale da oltre 8 mesi, ormai anzi settembre, ormai forse siamo diventati un paradosso, oggi è il 31, cioè si potrebbe andare a un anno di attesa, era il 14 settembre, mi sembra non possiamo stare un anno senza organismi dirigenti, ma senza la rappresentanza negli organismi, soprattutto di quelli che i cittadini ci chiedono di essere rappresentati, quindi o il partito si rimette in sintonia con la propria base e rinasce un'empatia con chi poi esprime nei territori, anche nella città di Siena, perché non va dimenticato che io comunque sono stato il maggior numero tra i votati a Siena, ma anche Angela ha preso 800 preferenze e più di altri candidati che appunto venivano sponsorizzati dal partito in quel momento, la nostra è stata un'azione quasi antitetica agli organismi dirigenti, questo vuol dire che forse è arrivato il momento di cambiare, nei nomi, nel modo e nello che fare, questo non sta a me dire come, io ho creato, ho detto che per esempio una direzione, il 20 d'agosto non era superfrofallo, non aveva un senso, perché dopo un anno di discussione, dopo tutto quello che è successo, si arrivava a parlare del tesseramento e non si faceva un'analisi politica di guida, io sogno un partito che torni a fare guida, che si relazioni col mondo delle categorie economiche, con i professionisti, che detti la linea dell'organizzazione dei territori, che sia importante al cospetto regionale, nazionale e che anche in città imprimo un cambio di passo nell'azione amministrativa, come avevo detto, sul quale fece scandalo il mio intervento, ma molti altri a suo tempo l'avevano richiesto o forse ci sarebbe da domandare se a chiederlo sono sui cittadini. Ecco, il PD a Siena è un PD, Renzi lo definì insomma il caso senese, non solo il PD, il caso Siena, il paradigma di un certo modo distorto di ragionare fra politica e banca, per esempio nel nostro paese, comunque fra poteri e partiti. Nel 2007 per sostenere l'allora traballante secondo mandato del sindaco Maurizio Cenni, all'interno del PD fu fatto un patto fra Franco Cercuzzi e Alberto Monaci, è probabilmente il patto politico che sovrintende poi a tutto il disastro che è successo dopo in termini di rapporti distorti, appunto fra il PD e il Monte Repaschi, la fondazione eccetera. Ecco, non credo che ci sia il rischio che andare a nuovi patti senza passare da una trasparente convocazione di un nuovo congresso in presenza di una maggioranza che è dubbiamente probabilmente cambiata comporti dei rischi di credibilità del PD fra i cittadini? Ma io questo lo condivido, intanto la rilettura storica di quello che è successo a Siena invito i senesi a farla, io dentro una battuta che mi fu fatta di accordi o non accordi, io ho dimostrato di non aver fatto accordi con nessuno, di essere stato corrente, di aver lanciato questa sfida e poi nella città di essere risultato il primo degli eletti, così come in Toscana rispetto al numero degli elettori, dimostrando che noi non abbiamo fatto accordi con nessuno e forse se ho fatto una considerazione politica che è una battuta e mi si è concessa, che sono l'unico che forse in città ha sconfitto Franco Cercuzzi e che allo stesso tempo ha mandato in pensione Alberto Monaci, c'è una generazione che comunque oggi fondamentalmente ha terminato il proprio modo di agire, c'è una cultura politica nell'area popolare che era stata rappresentata da Alberto a suo tempo di centro, che oggi sta cercando anche una nuova ricollocazione, penso nella città, nella provincia, penso anche in alcuni movimenti che si stanno realizzando, si realizzeranno, penso all'interno del Consiglio Comunale di Siena o dentro la città, c'è una cultura riformista nuova che sta emergendo, che non si vuole far carico degli errori del passato, che non ha l'obiettivo delle giustificazioni, che prova a produrre un elemento di grande novità, io su questo condivido la tua analisi, nel senso io non credo che servano nuovi accordi, io non sono uno che può fare accordi con nessuno, per questo nessuno fa gli accordi con me, perché comunque non sono uno che dico a te non dai garanzie, non do garanzie perché sono i cittadini che non vogliono queste garanzie di accordo, quindi con me non c'è spazio per fare accordi con nessuno, se c'è la volontà di condividere una progettualità, lo spazio è aperto a tutti, è questo che io ho detto quando ho partecipato ad alcune iniziative in città o come dico a tutti gli iscritti del Partito Democratico e a tutti gli elettori del Partito Democratico, allora se c'è questa volontà, quest'area nuova che si sta respirando, penso che anche in città Siena possa nascere un insieme di persone che non si strutturano, non stanno insieme per interessi, per gestione del potere o per opportunità del fatto che io posso offrire loro delle elementi di convenienza ma perché scelgono di stare insieme, scelgono su un progetto, su questo c'è ampia libertà e su questo che va e qui condivido, certo il congresso prima sarebbe un sogno auspicabile nel nostro territorio, però non sta a me deciderlo, io ho detto più volte io non posso né guidare in questo momento il partito perché non c'è stato fatto un congresso e ne allo stesso tempo incidere nelle politiche, perché rispetto agli organismi forse che rappresentano la mia area politica all'interno di 130 membri della direzione, magari ce n'è una trentina di ragazzi e di ragazze che vogliono condividere questa voglia di cambiare il partito, però è anche vero che quando io ho detto che comunque non avrei partecipato alla direzione provinciale del partito e facendo anche un attacco un po' forte a questa dirigenza attuale, si sono presentate poi 11 persone su 130, quindi forse vuol dire che anche in 120 persone, per carità, ammettiamo che la metà fossero andate in ferie, però ci potevano essere altre persone che magari potevano andare a difendere questa linea politica, in assenza di linea politica come si esce? O con una nuova riorganizzazione, fuori da logiche di patte, ma con persone di buon senso, per esempio io ho detto partendo da sindaci, partendo dal territorio, da chi lavora nelle categorie, da libri professionisti, dalle persone, dalle rappresentanze sociali, culturali di questo territorio, se nasce questo movimento può nascere anche all'interno dell'attuale compagine, altrimenti ovviamente la via maestra è quella del congresso e a quel punto ogni linea politica penso come all'interno delle regionali, dove dice sta ampia scelta di essere rappresentati e può tranquillamente presentarsi e a quel punto potrebbero nascere nuove raggruppamenti, nuove sensibilità che non escludo che in futuro si presenteranno anche nella città di Siena quando saremo chiamati fondamentalmente nei prossimi anni a riorganizzare penso la vita politica cittadina. Bene, in fondo è da loro, dalla loro iniziativa politica, dalle loro proposte, quelle di Neri e quelle di Scaramelli che poi scaturino un dibattito che a prescindere da come uno la pensa non potrà che far bene alla città, quando si cerca di rifocalizzare l'attenzione su ciò che serve, sulle cose concrete è sempre positivo e adesso quindi tutta la raffica di pareri che abbiamo raccolto in questi giorni sul fronte dell'opposizione della maggioranza rispetto alle sollecitazioni di Neri e di Scaramelli. Francesco Giusti, ieri chiamiamo la prima riunione dopo l'appello lanciato da Eugenio Neri di un'unione delle opposizioni, com'è andata ieri sera? Andata molto bene, c'è stata un'animità di vedute, un'animità anche di obiettivi che sono quelli di liberare Siena, di dare speranza e futuro ai cittadini di Siena, erano rappresentate forze civiche e forze politiche con la presenza anche significativa di alcuni consiglieri comunali di opposizione e quindi diciamo che per noi è un primo passo per poter costruire in modo paritario e sulla base di un programma comune e di diali comuni, diali sinesi, perché quello che ci interessa in questo caso è Siena, di costruire un percorso unitario per costruire veramente qualcosa di importante. Partiamo da chi non c'era invece, non c'era il Movimento 5 Stelle, ovviamente non c'era Sinistra Perziana, lo dico ovviamente perché insomma ha mandato Sinistra Perziana una comunicazione ufficiale, in cui ha detto non ci ritroviamo in questi ideali, mancava Enrico Tucci, ecco su quelli che mancavano cosa si può dire? Su quelli che mancavano si può dire che noi continueremo a ritrovarci, che noi se qualcuno si vuole aggregare per il bene di Siena siamo aperti e ben volentieri ospitiamo tutti, compresi gli esponenti di Sinistra Perziana, di Fondazione Comunista Sena si muove, quindi il Campanini, perché con lui siamo quelli che abbiamo sfilato insieme, seppur magari politicamente con ideali a livello nazionale differenti, però abbiamo sfilato assieme a Sena per la famosa marcia che organizzarono i consiglieri comunali di opposizione e quindi non vedo preclusione, abbiamo portato anche avanti battaglie e presenze comuni negli osservatori civici, nel laboratorio civico e nell'osservatorio del Monte Repaschi, per cui comunque sia da questo punto di vista non abbiamo nei confronti di nessuno che sia Pinassi, Cinque Stelle, anche se per loro lo hanno ribadito che non parteciperanno mai a nessun tipo di coalizione, ma anche nei confronti di Campanini, Tucci o altri non abbiamo alcun problema, quindi siamo aperti e speriamo di coinvolgere anche queste persone nei prossimi incontri. Invece chi c'era? Il riferimento alla Lega Nord ovviamente, il riferimento a un'altra formazione politica come Fratelli d'Italia, come dire, queste due formazioni, la sua e Fratelli d'Italia, secondo lei sono pronte a, fra virgolette, lo metto, abdicare al ruolo di partiti per una formazione civica? Non c'era solo Fratelli d'Italia, c'era anche Forza Italia, il partito socialista, rappresentanza comunale del partito socialista italiano, a dimostrazione che noi siamo disponibili per bene in Siena a parlare con tutti, anche chi magari a livello nazionale, se non anche regionale, si pone supposizioni diverse dalle nostre, ma questo non ci interessa, è un altro discorso, qui parliamo di Siena. Credo che l'alleanza vincente, il modello vincente, sia quello che ha funzionato anche ad Arezzo, cioè un'alleanza paritetica tra forze civiche e forze politiche, quindi credo che su questo punto di vista, per l'interesse e l'obiettivo che abbiamo tutti in comune, cioè quello di puntare a Siena e a conquistare il governo e la città non per sostituirsi ad altri, ma per riuscire a far ripartire questa città credo che da questo punto di vista si possa effettivamente costruire qualche cosa. Se si pensa di dire, di cercare le prime donne o di avere la patente della vera opposizione, della cattiva opposizione o chi più ne ha più ne metta, non si arriva da punte parti. Siamo tutti cittadini senesi e in primo luogo io ero presente, come anche gli altri amici degli altri partiti politici e forze civiche, non tanto come rappresentante di una forza o di un partito o di un movimento politico, quanto come cittadino senese che ha a cuore l'interesse di Siena. Michele Pinassi, 5 Stelle, guida il gruppo in Consiglio Comunale, gruppo che è composto anche da Mauro Aurigi e elabora anche lui idee sulla città insieme a tutti coloro che partecipano al laboratorio aperto da alcuni mesi, insieme a Sinistra Versiena, insieme a Pietra Serena, Enrico Tucci, eccetera. Allora c'è questa proposta di Eugenio Neri, come dire, chi vuole starci metta il dito qui sotto per elaborare quantomeno insieme nuovi progetti e nuovi programmi, partendo dai consiglieri comunali di opposizione. Qual è il tuo parere? Beh, innanzitutto ci tengo a precisare che l'esperienza del laboratorio civico è un'esperienza prettamente civica. A livello di consiglieri comunali abbiamo semplicemente dato la nostra disponibilità a questo gruppo di cittadini che ha intenzione di attivarsi per la città attraverso proposte concrete sulle tante questioni relative a Siena, penso alla fortezza, penso alla gestione degli spazi, all'urbanistica e a livello di consiglieri comunali, quindi di forze politiche, abbiamo semplicemente dato la nostra disponibilità a trasportare nelle sedi istituzionali le proposte nate da questo gruppo di cittadini che si è attivato all'interno di questa esperienza che si chiama Laboratorio Civico. C'è anche un sito web, laboratoriocivico.it, dove i cittadini, anche chi volesse dare un'occhiata alle nostre attività può collegarsi e vedere quello che facciamo. Siamo rimasti un po' sorpresi, ma neanche più di tanto poi, dalla richiesta di Eugenio Neri che poi viene subito a ruota dalla primogenitura che è stato l'invito della Lega ad un incontro alle forze di opposizione. Siamo rimasti un po' sorpresi perché a livello di Movimento 5 Stelle non abbiamo mai negato la nostra partecipazione alle azioni per il rilancio della città, per programmare e studiare proposte nuove per il rilancio di Siena, per cercare di dare una nuova veste alla nostra città. Quello che ci lascia un po' spiazzati è questa continua richiesta di voler fare un passo indietro quando sanno benissimo, e immagino ormai sia una cosa piuttosto nota, che il Movimento 5 Stelle non può e non vuole fare alleanze politiche di nessun tipo. Noi facciamo accordi, siamo disposti a fare accordi, a sottoscrivere dei patti civici su dei punti programmatici chiari che secondo noi sono indispensabili e devono essere condivisi, diciamo, una sorta di minimo denominatore fra le forze di opposizione. E sono i punti su cui non abbiamo mai fatto mistero, ovvero un aumento della democrazia partecipata, quindi referendum propositivi, abrogativi, consultivi, nei confronti rivolti alla città di Siena per tutte quelle questioni che riguardano da vicino la vita della città. Per esempio penso alla gestione stessa della fortezza, perché non è stato chiesto ai cittadini qual è il futuro che immaginano per la fortezza attraverso un referendum vincolante per l'amministrazione comunale. Pensiamo per esempio al discorso dell'acqua pubblica, alla gestione dei rifiuti, a tutta una serie di questioni per noi basilari e che abbiamo anche scritto nel nostro ultimo comunicato in cui chiarivamo la nostra posizione. Qui non si tratta di voler correre da soli, ma neanche il Movimento 5 Stelle vuole prestarsi a operazioni di sostituzione del padrone. Cioè noi vogliamo aumentare il livello di democrazia della città. Noi vogliamo che i cittadini senesi abbiano gli strumenti per decidere della loro città. Non vogliamo semplicemente partecipare a operazioni di cambio del principe che a suo uso e consumo decide sulla città quello che ritiene più opportuno. Siamo assolutamente stufi e stanchi di una gestione personale, di una gestione partitica di quello che è il patrimonio collettivo della città. Vogliamo più partecipazione dei cittadini, vogliamo che i cittadini veramente abbiano gli strumenti vincolanti per l'amministrazione perché è inutile che il sindaco vada a giro per i circolini arci di Siena a raccontare quanto è bella e fantastica la loro proposta di rilancio della città. Noi vogliamo che siano i cittadini che abbiano gli strumenti per poter dire in maniera vincolante quello che vogliono fare della loro città. Dunque la risposta alla proposta di Eugenio, al progetto di Eugenio è sicuramente interessante e sicuramente da accogliere. In passato anche personalmente sia come liste civiche, sia come partito ma come anche esponente di un certo ambito cittadino abbiamo provato a fare la riunione, la riunificazione di tutto il centrodestra o comunque di mettersi a sedere a un tavolino. Purtroppo degli errori sono stati fatti e non siamo riusciti ad arrivare in fondo a un risultato buono. Non mi riferisco alle ultime elezioni amministrative ma anche mi ricordo nel 2006 quando riuscimmo a portare al 32% le opposizioni con Pierluigi Piccini candidato sindaco alternativo comunque a questa sinistra che ancora sta mal governando la città. È una proposta interessante, bisogna ripeto non cadere negli errori del passato, quindi quali particolarismi, quali liti, quali manie di protagonismo, fare tutti quanti un passo indietro e veramente mettersi a sedere su progetti. Su progetti, ma mettersi a sedere su progetti non basta. Bisogna veramente aprirsi a tutta la città, bisogna veramente che ci siano persone di buona volontà, senesi di buona volontà, che si mettono per il bene comune, uniscano le energie, uniscano le sinergie, si mettono insieme e vadano avanti senza interessi particolari, ma interessi generali. Molto difficile da parte del centro-destra. Francesco Fasano, coordinatore di Siena Cambia. Allora, qual è l'atteggiamento di Siena Cambia in questo momento rispetto a questa politica che ad agosto, come dire, si è messa in movimento, di Neri abbiamo detto, Scaramelli che lancia una vera e propria proposta nuova, vedremo di che si tratta di una nuova associazione che in qualche modo forse entra in concorrenza con Siena Cambia e poi le sue dichiarazioni su Dallai, su Guicciardini, insomma, un attacco del consigliere regionale del PD soprattutto al suo partito per cambiarlo secondo i suoi intenti. Ecco, come vedete questi movimenti dentro Siena Cambia? Iniziamo dalla nostra collocazione e dal nostro vestito. Siena Cambia ha iniziato una battaglia importante contro il sistema, contro la vecchia politica nel 2013 e ha ancora intenzione di proseguire questa battaglia che, ahimè, purtroppo si è dovuta scontrare con tante vicissitudini e con tante imposizioni ed equilibrismi della politica convenzionale. Il PD è un nostro alleato di governo, di maggioranza. Io il PD lo vedo come non tanto un partito ma mi piacerebbe definirlo come una piccola galassia, una galassia in cui ci sono dei buchi neri, degli asteroidi, ci sono degli astri nascenti come ad esempio scaramelli. Questo che cosa significa? Che ben venga il supporto di scaramelli al rinnovamento, per noi è un interlocutore senz'altro naturale, preferirei, avrei piacere, si calasse un po' il tono della ruspa sempre accesa e dello spianare tutto, perché all'interno di ogni galassia c'è sicuramente qualche stella luminosa che va valorizzata. Ecco, c'è chi rispetto all'esperienza di Senacambia dice fondamentale nel momento in cui ci furono le primarie, no Valentini Mugnaioli, poi le elezioni di Valentini, però il fatto che i leader trascinanti di Senacambia di quell'epoca, Valentini e Mancuso, abbiano poi assunto ruoli amministrativi, ha finito per spostare l'asse di Senacambia in un ruolo sostanzialmente di supporto, seppure come dire anche in modo vivace e spesso stimolante, però un ruolo di supporto all'amministrazione comunale, punto e basta. Su questo punto vorrei parafrasare la famosa trasmissione di Giorgio Panariello, il comico toscano, Senacambia non esiste, lui faceva Panariello non esiste, noi possiamo utilizzare lo sketch in questo modo, questo piacerebbe a molti, ma in realtà non è così, certo i nostri leader hanno preso un ruolo amministrativo perché la spinta alle elezioni amministrative di Senacambia è stata molto forte, ma non è l'unico motivo che ha generato una piccola trasformazione, mutazione, crescita in Senacambia, ma è anche quello che si era creato nel caotico contesto politico delle amministrative 2013. Tante persone intorno a Senacambia, tante persone con obiettivi non sempre paralleli a quelli del progetto Senacambia, tante persone che si mettevano davanti al progetto e non a servizio del progetto, persone che in questo momento hanno preso ruoli diversi o si sono allontanate dall'associazione, che invece, confesso, ho riscoperto molto attrattiva verso persone che non hanno mai fatto politica, che non se ne sono mai occupate, che forse non sanno neanche bene come è strutturata la politica senese, ma che vedono in noi un luogo dove andare a discutere, presentare le loro idee. Questo per me è molto importante, questa è una nuova pelle di Senacambia che ne può fare nuovamente e ancora di più una forza politica molto importante. Ecco, in questo quadro il rapporto fra l'organizzazione e il gruppo consigliare è sempre stato molto laico, nel senso ruoli diversi e quindi anche rispetto delle diverse modalità di interpretare il messaggio che Senacambia vuole. C'è però quel tema di fondo dei due consiglieri, Trapassi e Sabatini, che a ogni piesso spinto dicono, vabbè, noi siamo stati eletti in Senacambia ma apparteniamo ad un altro progetto politico, ne trarremo le conseguenze. Qual è il tuo parere? Mio parere è semplice, l'effetto autobus si è esaurito e alla prima fermata sono scesi. Mi dispiace perché credevo che avremmo potuto condividere un progetto, così non è stato, la nostra spinta verso l'interlocuzione, verso l'area politica non ha avuto buoni effetti, i due consiglieri a cui ti stavi riferendo sono nei fatti fuori dalla maggioranza e lo hanno fatto da soli con le loro mani. Questo sicuramente mi dispiace ma non preclude che ci possano essere dei nuovi momenti di incontro, senz'altro, questo ci tengo a ribadirlo, sempre in maniera propositiva e per il bene della città e non delle persone o dei ruoli. Ecco, sul fronte dell'opposizione a ogni piesso spinto si dice non andremo a votare alla scadenza naturale del 2018 perché le vicende di Monteriggioni saranno molto più forti e a breve accadrà qualcosa, a breve accadrà qualcosa, per cui Valentini si dovrà dimettere se andrà al voto anticipato. Qual è invece l'opinione di Sena cambia da un'altra prospettiva, quella di far parte della maggioranza? Noi, come ho appena detto, vogliamo il bene della città. Il bene della città è che il mandato arrivi alla sua conclusione naturale. Quindi, come va di moda ora dire, ci sono questi gufi che tirano l'acqua al loro mulino, ma verso una prospettiva che non è il bene cittadino. In questi primi due anni, faticosi e dibattuti anche adesso, abbiamo visto delle grandi evoluzioni positive che sono la sistemazione del bilancio, l'abbattimento del debito. Questi sono grandi passi che però non hanno una visibilità così ampia. Le fondamenta della casa, su cui la casa appoggia e che sono indissolubili, sono sottoterra, non le vede nessuno. Risanare il bilancio è come una fondazione. Abbiamo fondato la nostra struttura e la struttura della città su un debito che ancora deve essere in qualche modo concluso come opera di sanatoria, ma che ci permette di rilanciare la città. Se Valentini dovesse, malauguratamente, io spero e credo di no, ma dovesse in qualche modo interrompere il suo mandato, questo sarebbe un nuovo mattone che si abbatte sulla testa della città. E vorrei sapere dalle opposizioni se augurano a Siena proprio questo. Noi abbiamo accolto con molto favore l'appello di Eugenio Neri di qualche giorno fa a fare appunto un fronte comune di liberazione della città da questa amministrazione PD che ancora una volta è stata dimostrata attenta solo al proprio ombelico e fallimentare nei confronti della città. Certamente è un percorso non semplicissimo, a nostro parere però è ben indelineabile, nel senso che abbiamo in Consiglio Comunale un'opposizione che anche se si era come dire divaricata al momento del ballottaggio ha poi avuto un comportamento molto unitario nei confronti dei grandi temi della città, votando sempre nella stessa maniera e soprattutto avendo votato compatta contro il bilancio dell'amministrazione Valentini. Da questi consiglieri comunali secondo me, secondo noi si deve ripartire perché sono i sicuri oppositori, tutto il resto lo vedremo stata facendo. Ma la risposta di impegno per Siena è sempre positiva a chi cerca di organizzare un'alternativa valida a questo sistema o groviglio come lo vogliamo definire che ha ridotto la città nelle condizioni che purtroppo sappiamo. L'appello di Eugenio è un appello lanciato alla società civile, alle forze civiche a cui ha fatto seguito una prima risposta da parte di un partito, la Lega Nord che per domani giovedì ha in animo di incontrare le forze politiche di opposizione, rivolgendosi però alle forze civiche e ai partiti. Vedremo che cosa nascerà, ci vorrà molto buon senso da parte di tutti, credo sia stato giusto rivolgersi a tutte le forze di opposizione, sia strutturate come partiti, sia civiche e personalmente mi ritengo parte di queste perché impegno per Siena è una lista civica che esiste dal 2006, ha ormai una storia si può dire e credo, anzi sono certo, è la lista civica più longeva tra quelle di opposizione tuttora in attività, quindi un po' di esperienza credo di poterla portare e speriamo di metterla al servizio di un, non dico di un accordo perché è estremamente prematuro, ma di fare le premesse affinché l'opposizione possa essere unita e organizzata al momento del voto, quando che sia. È quello che ci chiedono i senesi, veramente i senesi vogliono un'alternativa unitaria, per un motivo o per l'altro non siamo mai riusciti a dargliela, non è facile, non è assolutamente facile, però abbiamo assolutamente il dovere e la necessità di provarci. Allora, io ringrazio innanzitutto dell'ospitalità e voglio rispondere tramite la vostra emittente a Eugenio, in quale rinnovo la mia stima e dico che continuerà sicuramente la collaborazione che ormai da molto tempo sta andando avanti in Consiglio Comunale. Faccio anche però un appello e voglio esternare una maggiore chiarezza per dire che il sottoscritto e sinistra per Sena non farà mai nessun tipo di accordo né di alleanza né con Fratelli d'Italia né con la Lega Nord. Io sembra quasi superfluo dire che i nostri valori, i nostri progetti politici sono anni luce distanti da questi due partiti e quindi rimando al mittente l'invito di qualsiasi tipo di accordo. E qui voglio sottolineare che Eugenio Neri se vuole fare un passo avanti per una chiusura verso questi due partiti benvenga, ci potremo ritrovare, potremmo parlare di diversi punti programmatici che credo che non possono essere solamente cinque, ma cominciamo a partire anche con 10-15 punti sostanziali e vedere dove possiamo arrivare. Naturalmente io continuerò a lavorare in autonomia, in consiglio comunale, ho molti progetti e voglio portarli avanti, voglio ricordare le due mozioni che ho depositato, una sulla ZDL del centro storico che riguarda appunto il ripopolamento del centro storico e le possibilità che i residenti possano parcheggiare all'interno dei parcheggi coperti di Sena parcheggi SPA e poi soprattutto quello riguardante il lavoro, tema cardine del mio operato e che vorrei fosse all'ordine del giorno di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale e la mozione riguardante bloccare gli accessi di ribasso nei bandi. Sì, settimane e anche mesi, il Partito Democratico ha deciso già da prima dell'estate che era arrivato il momento di rifissare degli obiettivi chiari per i prossimi anni di governo da qui alla fine del mandato. Noi abbiamo lavorato in questi anni in consiglio comunale sia anche nel Partito e con la Giunta per cercare di darsi una linea e cercare di fissarsi degli obiettivi. Questo alle volte è riuscito, alle volte abbiamo riscontrato anche delle difficoltà ma proprio per questo perché c'è la volontà comunque di andare avanti e rinnovarci anche nella proposta. Domani la conferenza programmatica getterà quelle che sono le basi programmatiche ma soprattutto quegli obiettivi che noi vogliamo raggiungere da qui alla fine del mandato perché come forza comunque di governo vogliamo sia essere in grado di dialogare con la città, di interpretarla ma di interpretare anche i nuovi bisogni e le nuove esigenze che si sono manifestate in questi anni comunque di grossi cambiamenti. Il dibattito all'interno del Partito Democratico è sempre molto intenso. Alcuni giorni fa il consigliere regionale Stefano Scaramelli ha detto sono l'unico che ha sconfitto Franco Cecuzzi e è mandato in pensione Alberto Moneci. Lei cosa ne pensa? Io credo che ripartendo da quanto dicevo prima della conferenza programmatica di domani, forse noi dobbiamo imparare a davvero una volta per tutti ragionare tutti quanti sui contenuti. Se si ragiona sui contenuti ci si dà degli obiettivi e si condividono ovviamente ognuno dando il suo contributo credo che la questione di nomi che troppo spesso viene richiamata e che secondo me non ha portato niente di buono in passato anche dalle recenti ultime vicende e ne porta un valore aggiunto oggi. Più che queste frasi che forse sono anche poco opportune non rappresentano un programma politico. Se questa città vuole cercare di impostare un percorso e dare delle risposte ai bisogni seri non è questione di dover nominare sempre persone, sempre fare i soliti nomi perché questo allontana da quelli che sono i problemi reali e allora se si vuole dare delle risposte chiare bisogna affrontare i problemi reali e non trincerarsi cercando di fare dei nomi giusto per fare uno spot elettorale. Stessa risposta immagino visto che Stefano Scalamelli è anche nominato da lei, Valentini che secondo lui non rappresentano il futuro del PD a Siena o magari ha chiesto le dimissioni nemmeno tanto indirettamente di Niccolò Guicciardini. Assolutamente la stessa risposta. Io forse mi si conoscerà anche perché non sempre ho appoggiato al 100% quelle che sono state delle scelte o comunque sia sono sempre state fatte delle battaglie interno e esterne per cercare di portare avanti le proprie idee ma sempre con una lealtà prima di tutto verso le persone, verso i progetti politici perché quello che io rivendico con forza è la volontà di portare avanti delle idee e degli obiettivi per la città. Chi ci vuole stare in questo percorso con quegli obiettivi che abbiamo deciso insieme ben venga che stia all'interno di un gruppo. Chi non ci vuole stare e che ha intenzione di prendere altre strade ovviamente è un modo per dialogare ma non ha senso riferirsi sempre ed esclusivamente ai nomi perché, lo ripeto, un'altra volta fare nomi allontana da quelli che sono i problemi reali. Cosa pensa della riunione che c'è stata alcune ore fa in realtà di una parte o comunque di un fronte di opposizione fra partiti politici e liste civiche? Bisognerebbe capire anche da loro qual è stato l'esito della loro riunione. Ho visto diversi interventi sulla stampa da parte di qualche consigliere comunale, qualche consigliere d'opposizione. Vedo anche molti interventi forse sui social di anche ex sindaci che ritornano a dare la linea o perlomeno provare a darla. La minoranza, l'opposizione in consiglio comunale, l'opposizione a Siena credo stia facendo dei percorsi e quando vedremo quali saranno i risvolti io credo che noi dobbiamo continuare comunque a lavorare sulla nostra strada. Con serietà, con lealtà, come sempre abbiamo dimostrato di essere, non risparmiando critiche ma sempre con la convinzione che siamo una forza di governo e dobbiamo dare il massimo perché questa giunta, questa amministrazione possa arrivare in fondo a questo mandato avendo raggiunto degli obiettivi seri. Grazie. 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 Grazie.